Buon Natale! Buon Natale a tutti carissimi amici, carissime amiche, eh? Come state passando queste feste? Io metto il garfo di Pombagira all'insù perché mi auguro che state passando tutto in modo meraviglioso o comunque in modo positivo, malgrado a volte le inevitabili difficoltà della vita che comunque noi possiamo superare. Allora, metto il garfo davanti alla nostra Maria Padilla quindi questa grande Pombagira, questa entità poderosa però stamattina, in questo breve video, non voglio essere lunga né noiosa voglio rispondere a delle domande che mi vengono fatte poi telefonicamente oppure in privato, chiaramente, tramite messaggio, tramite chiamata quello che vi pare a voi. Su molte persone appassionate di esoterismo, di magia, di chi muove i primi passi nella magia e mi dice, Simonetta, io vedo che nei negozi esoterici oppure anche alcuni tuoi colleghi usano fare dei rituali dove c'è una candela a forma di uomo e una candela a forma di donna oppure due candele a forma di uomo se si tratta di un'unione ovviamente omosessuale o di donna stessa identica cosa stesso identico concetto il fatto è questo è che in magia effettivamente esistono le cosiddette candele figurate cioè fatte a forma di statuina femminile e maschile oppure, dipende dal vostro intento, da una statuina maschile e una statuina maschile unite insieme oppure da due statuine femminili unite sempre insieme ma il concetto carissimi e carissime non cambia si tratta di ovviamente ricreare a livello astrale l'unione tra due persone quindi l'unione tra una figurina femminile che poi diventate magari voi e l'unione tra l'ipotetico compagno o amante che volete attirare questo tipo di candele è reperibile in genere nei negozi giustamente che vendono vari articoli esoterici però domanda se io non posso comprare in questi posti se non ho la disponibilità economica se ho un'urgenza come faccio a fare un lavoro dove devo unire due candele che sono figurate quindi che rappresentano un uomo e una donna un uomo e un uomo oppure due donne insieme certamente parliamo sempre di rituali d'amore in questo senso bene allora facciamoci qualche domanda come facevano i nostri antenati ma non parlo di 10, 20, 30, 100 anni fa parlo di centinaia di anni fa allora come facevano intanto c'è da dire questo che era già difficile reperire le candele colorate quindi si lavorava con candele di cera d'api o si lavorava con candele bianche questo è quanto perché ovviamente nei tempi antichi non si disponeva della chiamiamola facilità tecnologia oppure delle fabbriche che facevano appunto candele con varie forme allora si usavano semplici candele a stilo o comunque di forma allungata oppure anche dei candelotti un pochino più bassi però sempre candele di questa più o meno fattura allora come si fa nel caso 2023 quasi che ci siamo quello che sarà a creare la stessa identica qualcuno magari mi dirà ma no tu dici delle cavolate io vi dico quello che è la storia punto e fine cioè non è che vado tanto per il sottile come si fa Simonetta a ricreare allora una candela a forma di donna e una candela a forma di uomo io che voglio fare un rituale di unione che siano rosse che siano bianche che siano rosa che siano anche nere perché magari quelle nere sono usate per separare schiena a schiena allora come si fa guardate la soluzione è semplicissima forse l'avete già vista in qualche video un pochino più vecchio si prende una candela rossa magari usata questa come vedete l'ho usata per tante cose il rosso magari non è esattamente ugualissimo a questo qua ma è sempre un tipo di rosso e cosa facciamo una volta che noi abbiamo battezzato abbiamo energizzato dallo stoppino alla base la candela che cade un po' di roba la candela che vi rappresenta quindi per esempio faccio il mio esempio che sono interessata a una certa persona e scriverò Simona Mezzani 25 febbraio 1972 questi sono i miei veri dati tra l'altro quindi scriverò dallo stoppino alla base nome cognome e la mia data di nascita e per attirare legare l'altra persona prenderò la seconda candela e scriverò tanto per cambiare Mario Rossi nato l'8 novembre 1975 quindi incidendo con una punta che può essere un lapis che può essere una penna che può essere un ago che può essere una punta metallica a questo punto io ho inciso le candele posso scegliere certamente di fare anche un'altra operazione che è quella di vestire di spalmare le candele con una polvere oppure con un olio esoterico oppure con le cose ancora più semplici perché prima certamente che i fattucchieri avevano un grande arsenale di oli, polveri e tante cose ma le persone che lavoravano privatamente in casa non avevano la possibilità di reperire tutte queste cose nemmeno le conoscenze per crearli quindi mettiamo che io voglio ungere le candele prima di accenderle prendo l'olio e le passo con l'olio lungo tutto il fusto molte persone hanno questa concezione io non dico che è sbagliata ma per me non ha mai rappresentato un problema vale a dire l'olio esoterico si passa prima dalla parte superiore e poi dalla parte inferiore quindi oppure dalla parte inferiore per bandire si va verso lo stoppino oppure sempre dalla parte dello steppino andando in giù io sinceramente vi dico la verità sarà il mio istinto perché ognuno ha il suo saranno le mie vite precedenti quando prendo un olio una polvere o anche del miele anche del semplice miele che poi è attivissimo a livello astrale a livello esoterico io prendo e me le sfrego in tutti i sensi non mi interessa le voglio saturare di essenza e del calore delle mie mani senza stare a guardare se è lo stoppino in giù o lo stoppino in su questo magari lo faccio più che altro quando devo battezzare con i nomi i cognomi le persone da unire certamente se io voglio unire un paio di persone una coppia logicamente o me stessa con qualcuno preferisco partire dalla testa fino al fondo perché come vi ho detto anche in un altro video la forma dello stoppino rappresenta la parte astrale eccola qua mi sposto un attimo e andando in giù andiamo verso la parte materica della vita quindi cosa vuol dire tradotto in parole semplici vuol dire che dallo spirito io attiro e concretizzo e coagulo in materia cioè il risultato quello che mi prefigo ma torniamo a come creare una una simulazione altrettanto efficace di due statue che non abbiamo disponibili prendiamo due candele come vi ho detto le battezziamo scrivendo i dati eventualmente le ungiamo o le spolverizziamo di polvere e olio o quello che comunque potete avere o comprare anche in certi negozi e poi cosa facciamo le mettiamo un attimo così vediamo se stanno in piedi si stanno in piedi prendiamo una candela del medesimo colore quindi rossa nel caso avessi fatto un'unione con candele bianche avrei preso una candelina bianca eh anche usata nel caso avessi fatto un'unione con candele viola avrei preso il viola nel caso avessi fatto una separazione avrei usato una candela nera eh magari mettendo i dati schiena a schiena non attaccati insieme comunque qui parliamo di come si fa a fare una unione una coppia di candele renderla un feticcio altrettanto importante a livello eh di sostituzione di statua niente di tutto di tanto complicato perché la magia non è complicata eh magari può essere lunga magari richiede tantissima energia magari richiede una concentrazione non indifferente ma la magia se fatta con le basi giuste se fatta con passione è una cosa che sazia lo spirito può essere addirittura galvanizzante divertente eh anche se comunque esce tanta energia questo ve lo posso assicurare si accende la candela di servizio eh a me piace fare un po' le dimostrazioni così come se la faceste voi e allora cosa facciamo una volta che è accesa prendiamo le due candele eh attenti a non bruciarvi o comunque non è comunque non è una cosa tanto difficile e cominciamo a far colare dalla base fino allo stoppino oppure se volete anche dallo stoppino fino alla base tanto l'intento è di saldare le candele insieme fate colare tante gocce di cera tante gocce di cera con pazienza un po' di pazienza che non guasta mai e poi girate le candele che saranno comunque già semi attaccate e di nuovo sempre o dalla base o dallo stoppino voi prendete questa candela io la chiamo sempre la candela di servizio e fate colare nella fessura tante gocce di cera finché le candele non saranno completamente saldate molto semplice come vedete non c'è niente di così complicato la spengo allora i nostri avi i nostri antenati gli antichi gli schiavi brasiliani afro-brasiliani depositari del voodoo del candomblé del catimbo e poi nei tempi più recenti anche dell'umbanna ma io parlo anche della kimbanna che comunque è un'altra corrente che è comunque chiamata via della mano sinistra o escherda allora indipendentemente dal culto che voi state praticando che sia wicca che sia afro-brasiliano che sia di del voodoo che sia di altre correnti che sia collegato alle forze universali avete creato adesso usando appunto la candela che salda con la propria cera le altre due una perfetta coppia e questa ovviamente poi verrà usata in un rituale specifico magari con la pomagira magari con esciu magari con santa marta la dominadora magari con santo antonio e via e via e via in modo tale che quando voi attaccate le candele sul piattino di lavoro o sul vassoio di lavoro queste candele stanno completamente unite è unite come deve essere unita la coppia da legare molto semplice tante parole per poi descrivere una cosa che tutti possiamo fare e ha lo stesso risultato vi lo posso garantire delle candele figurate poi se qualcuno non è d'accordo io sono mica mi arrabbio per carità di dio però vi dico che all'atto pratico se voi sapete lavorare se un mago se un uno sciamano sa lavorare è capace anche con un semplice mozzicone e tre parole di fare un cerimoniale tremendo tutto sta alla bravura tutto sta alla conoscenza e alla predisposizione del mago o della maga un saluto a tutti ancora buon proseguimento del Natale e al prossimo video